Signor Kit. Siete voi. Non è vero? Sì, sono io. Vostra altezza. Se mi consentite, cioè... Mi farebbe un grande piacere se voi voleste concedermi l'onore di aprire queste... queste... Tanze? Sì. Esatto. Vi guardano tutti. Credetemi. Siete voi che tutti guardano. Siete o- Grazie a tutti. Chi è Custey? Non ne ho idea. Chi è Custey? 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 Chi è Custey?